Ciao ragazzi, oggi abbiamo un tutorial che vale per tre, vi parlerò di Orléans e delle sue due espansioni, Invasione e Intrigo. Partiremo dalla descrizione dettagliata del regolamento del gioco base e poi vi illustrerò le varianti offerte dalle due espansioni. Per saltare direttamente alla parte che vi interessa potete utilizzare i link nella descrizione. Tutti e tre i titoli sono di Rainer Stockhausen, con solo alcuni scenari di invasione disegnati insieme a Inca e Marcus Brand. L'edizione italiana è a cura di Cranio Creations. Da 1 a 5 giocatori, se avete tutte le espansioni più l'espansione quinto giocatore, per una durata indicativa di 90 minuti. Vediamo come si gioca. Essere mercanti nella Francia medievale significa viaggiare molto, raccogliere merci, costruire stazioni commerciali, assoldare aiutanti lungo il cammino. Non mancheranno imprevisti, ma alla fine sarà premiato chi avrà ottimizzato tutte le proprie risorse. Consegnate a ciascun giocatore un sacchetto, una plancia personale e poi nel proprio colore 10 stazioni commerciali, 7 cubetti, 4 aiutanti e il mercante. Gli aiutanti, un barcaiolo, contadino e un artigiano vanno posizionati nell'area inferiore della plancia chiamata mercato. Create una riserva di monete e consegnatene 5 a ciascun giocatore. Posizionate il tabellone grande al centro del tavolo. Nella parte sinistra trovate i tracciati degli aiutanti, nella parte destra la mappa della Francia. Create delle riserve di aiutanti e posizionateli vicini ai relativi tracciati. Oltre agli aiutanti base che abbiamo già visto, troviamo i cavalieri, gli studiosi e i monaci. I cubetti dei giocatori partono dalla casella iniziale di tutti i tracciati, compreso quello in fondo che è il tracciato sviluppo. Posizionate le tessere tecnologia sulla relativa icona. Posizionate un cittadino in corrispondenza di ogni relativa sagoma. Mischiate le tessere clessidra che scandiranno i turni di gioco e posizionatele a faccia in giù sul tabellone con in cima la tessera pellegrinaggio dal retro più chiaro. Sulla mappa tutti i mercanti partono da Orlean. Posizionate casualmente una merce a faccia in su in ogni spazio quadrato sulle strade e i corsi d'acqua, saltando solo quelli in cui è indicato un numero di giocatori diverso dal vostro. Le merci restanti vanno divise per tipo e si posizionano nella parte sinistra del tabellone in corrispondenza dei relativi simboli. Vi segnalo che il numero di risorse e aiutanti da utilizzare per il setup cambia a seconda del numero di giocatori come indicato dal regolamento. Dividete le tessere luogo in base al numero sul retro e create una pila di luoghi di livello 1 e una di luoghi di livello 2. Posizionate il tabellone opere benefiche a lato del tabellone grande con i cittadini sulle relative sagome. La tessera scudo va al primo giocatore. La partita si svolge in 18 round, ognuno diviso nelle seguenti fasi. Clessidra, censimento, aiutanti, pianificazione, azioni, evento, primo giocatore. All'inizio di ogni turno il primo giocatore scopre la tessera clessidra in cima alla pila. Le tessere clessidra scandiscono la partita, che terminerà nel turno in cui si scoprirà la diciottesima, e riportano degli eventi che si risolveranno nella fase eventi successiva, ma che vengono ora svelati per potersi preparare per tempo. Solo la prima tessera, che è sempre il pellegrinaggio, ha effetto sulla fase azioni e non sulla fase evento, e indica che nel primo turno non è possibile assoldare monaci. Nella fase censimento si controlla il tracciato dei contadini. Il giocatore più avanzato riceve una moneta, il giocatore più arretrato deve pagare una moneta. In caso di pareggio nessun giocatore riceve o paga monete. Se si gioca in due si riceve solo una moneta per essere il più avanzato, ma non si paga per essere il più arretrato. Nella fase aiutanti i giocatori contemporaneamente pescano tessere personaggio dal proprio sacchetto e le posizionano in ordine casuale nel proprio mercato. Si possono pescare un numero di personaggi pari al proprio livello sul tracciato cavalieri. Si parte con la possibilità di pescare 4 personaggi, che sono esattamente quelli iniziali, perciò per il primo turno si può saltare la fase di pesca. Si può continuare a pescare tessere finché c'è spazio al mercato, una volta terminati gli spazi si interrompe la pesca. In qualsiasi momento del gioco è possibile guardare nel proprio sacchetto per controllare quante e quali tessere personaggio si hanno, avendo la premura poi di rimescolarle prima della successiva pesca. Segue poi la pianificazione, in cui i giocatori scelgono quali luoghi, ovvero quali azioni, attivare nel turno in corso. Le azioni possibili sono quelle visibili nella propria plancia personale, le vedremo più avanti nel dettaglio. Per attivare un luogo occorre avere al mercato gli aiutanti necessari, ovvero quelli indicati sotto l'azione, e riempire con i personaggi tutti gli spazi circolari relativi ad un luogo. Nella fase di pianificazione quindi si sceglie se e come destinare gli aiutanti al mercato alle varie azioni. Non è obbligatorio utilizzare tutti gli aiutanti, ma quelli inutilizzati resteranno al mercato e occuperanno slot fino al turno successivo, e potrebbero quindi impedirci di pescare nuovi personaggi. Non è obbligatorio neanche riempire tutti gli spazi di un luogo. Si può anche decidere di posizionare un personaggio in uno spazio azione anche se non si riuscirà a completarlo in questo turno. L'azione si potrà attivare nei turni successivi quando si pescheranno i personaggi necessari. Una tessera posizionata su uno spazio azione non può più essere spostata finché non si riuscirà ad attivare il luogo. L'unica possibilità è in una fase aiutanti successiva scegliere di non pescare un certo numero di tessere e di spostarne altrettante da uno spazio azione al mercato rendendole nuovamente disponibili per la pianificazione. Nella fase azioni in ordine di turno, ogni giocatore attiva uno dei luoghi di cui ha riempito tutti gli spazi azione, poi passa la mano al giocatore successivo e così via finché tutti i giocatori passano. Un giocatore può attivare i propri luoghi nell'ordine che preferisce e non è obbligato ad attivare uno spazio che ha completato, può tenerlo pronto e attivarlo in una successiva fase azioni. Una volta che un'azione è stata attivata i personaggi usati tornano nel sacchetto. Vediamo le azioni nel dettaglio. Attivando la fattoria si può prelevare dalla riserva sul tabellone una tessera contadino da mettere subito nel sacchetto. Si fa avanzare il proprio segnalino sul tracciato e si ottiene dalla riserva una merce del tipo indicato. Attivando il villaggio si può scegliere se prelevare un barcaiolo, un artigiano o un commerciante. Se si sceglie il barcaiolo, si avanza il segnalino e si ottengono tante monete quanto indicato. Il primo giocatore che arriva all'ultima casella del tracciato ottiene il cittadino invece delle monete. Se si sceglie l'artigiano, si avanza il segnalino e si ottiene una tessera tecnologia, da tenere per il momento accanto alla propria plancia. Dopo aver passato si può posizionare la tessera tecnologia su uno spazio azione a scelta e questo si considererà occupato per sempre, ovvero d'ora in poi sarà necessario un aiutante in meno per attivare quel luogo. La prima tessera tecnologia ottenuta va obbligatoriamente posizionata sopra uno spazio azione contadino e una tessera tecnologia non si potrà mai usare per sostituire un monaco. Inoltre, non si possono posizionare tecnologie su luoghi che hanno già una tessera tecnologia, oppure su luoghi che necessitano di un solo aiutante. Le tessere tecnologia posizionate non si possono rimuovere né spostare. Con il commerciante si avanza il segnalino e si può scegliere un luogo del livello indicato. Il luogo diventa di proprietà esclusiva del giocatore, che amplia così la sua plancia con ulteriori azioni possibili. Non c'è limite al numero di luoghi che si possono avere. I luoghi acquisiti si possono attivare nelle successive fasi azioni esattamente come i luoghi della propria plancia. Attivando l'università si recluta uno studioso, si avanza il segnalino sul tracciato relativo e si avanza poi il segnalino sul tracciato sviluppo di tanti passi, ovvero libri, quanto indicato. Il tracciato sviluppo ha delle icone a stella che indicano l'attuale livello del proprio sviluppo. Finché non si supera una nuova stella, resta valido l'ultimo valore superato. Ad inizio partita tutti hanno un livello di sviluppo di 1. Il primo giocatore ad entrare in una casella con un cittadino lo preleva e lo tiene per sé. Quando si entra o si supera una casella con delle monete, si prelevano dalla riserva. Attivando il castello si recluta un cavaliere, e si avanza il segnalino la cui posizione indica quanti aiutanti si possono pescare ad ogni turno nella fase aiutanti. Il valore base da cui partono tutti è 4. Alla quarta casella non corrisponde un incremento degli aiutanti da pescare, ma il primo ad arrivarci ottiene il cittadino lì posizionato. Attivando il monastero si può reclutare un monaco. Il monaco non ha tracciati né bonus addizionali, ma varrà come personaggio jolly per sostituire qualsiasi aiutante. Quando però è richiesto un monaco per attivare un luogo, è consentito utilizzare solo un monaco. Ricordate che quando prelevate un aiutante dal tabellone lo dovete mettere immediatamente nel sacchetto. Non si può più svolgere un'azione se è terminata la relativa riserva di aiutanti sul tabellone. Occasionalmente gli aiutanti torneranno disponibili. In quel caso sarà nuovamente possibile svolgere l'azione. Vediamo ora le azioni relative agli spostamenti sulla mappa. Attivando la nave si può muovere il mercante di un passo, ovvero da una città ad una adiacente, attraverso un canale. Se si oltrepassano una o più merci se ne può prelevare una. Attivando il carro si può muovere il mercante da una città ad una adiacente utilizzando una strada. Se si oltrepassano una o più merci se ne può prelevare una. Attivando la corporazione si può prendere una stazione commerciale dalla propria riserva e la si può costruire nella città in cui si trova il proprio mercante. In ogni città può esserci una e una sola stazione commerciale, ad eccezione di Orléans in cui ogni giocatore può avere una stazione. Attivando lo scriptorium si ottiene un punto sviluppo e si avanza il relativo segnalino di un passo. Attivando il municipio si possono inviare uno o due aiutanti sul tabellone delle opere benefiche. In questo caso non è obbligatorio riempire entrambi gli spazi, ma l'azione si può svolgere anche con un solo aiutante. L'aiutante inviato deve coprire uno spazio con la sua icona. I personaggi inviati tramite il municipio non si possono recuperare. Non è possibile inviare i personaggi iniziali del proprio colore. Anche il tabellone opere benefiche è diviso in aree. Per aver inviato un personaggio in un'area si riceve immediatamente il bonus indicato. Inoltre se con il proprio personaggio si completa un'area si ottiene anche un cittadino come bonus completamento. Le aree si possono riempire in qualunque ordine. Esiste una tessera luogo chiamata Santa Barbara che è un'estensione del municipio. Dopo che tutti i giocatori hanno passato si procede con la fase evento e si risolve l'evento relativo al turno in corso che era stato rivelato nella fase 1. Gli eventi possono essere positivi o negativi. Ogni qual volta è richiesto il pagamento di monete e non se ne hanno abbastanza si subisce la tortura. Per ogni moneta non pagata bisogna eliminare dal gioco a scelta una stazione commerciale costruita o no, un aiutante pescato a caso dal sacchetto, un punto sviluppo, una tessera merce, una tessera luogo o una tessera tecnologia. Infine il segnalino primo giocatore passa al giocatore alla sinistra dell'attuale. La partita termina dopo il diciottesimo round. Il giocatore che ha costruito il maggior numero di stazioni commerciali ottiene il cittadino sulla mappa. A quel punto si procede al conteggio dei punti vittoria. Ogni moneta vale un punto. Le merci possedute valgono punti vittoria in base alla loro tipologia. Il grano vale un punto, il formaggio 2, il vino 3, la lana 4 e il broccato 5. Poi secondo una semplice formula si sommano il numero di stazioni commerciali costruite più il numero di cittadini raccolti e si moltiplica il risultato per il proprio valore sul tracciato sviluppo. Chi ha più punti è il vincitore e in caso di parità vince il giocatore più avanzato sul tracciato sviluppo. Vediamo ora le due espansioni di Orlean, Invasione e Intrigo. Fondamentalmente utilizzano lo stesso setup e le stesse regole del gioco base, quindi vi illustrerò solo le modifiche e le aggiunte. Partiamo da Intrigo. L'espansione Intrigo contiene 23 carte ordine, 34 tessere clessidra, alcuni nuovi luoghi e due plance opere benefiche sostitutive. Si possono giocare 4 varianti, Ordini, nuovi eventi, nuove opere benefiche, Intrigo. Con la variante Ordini dopo il setup classico mischiate il mazzo di carte ordini e scoprite le prime 5 carte. Ogni carta mostra una città della mappa e alcune merci che vanno trasportate in quella città. Non appena il proprio mercante si trova nella città corretta e il giocatore è in possesso delle merci necessarie, durante il suo turno le elimina dal gioco e preleva la carta relativa, che gli darà il numero di punti vittoria indicati a fine partita. Per ogni ordine risolto si scopre subito una nuova carta. Soddisfare un ordine deve essere l'ultima azione del proprio turno, poi si è obbligati a passare. Con la variante Nuovi eventi si sostituiscono alle tessere clessidra originali le nuove, scegliendo casualmente 4 tessere per ogni lettera A, B, C, D e impilandole con le tessere D in fondo e le tessere A in cima. Ad inizio e alla fine della pila così creata vanno posizionate le due tessere Silenzio. Alcune tessere clessidra riportano un'icona circolare che indica che si tratta di eventi da attivare in una fase diversa dalla fase eventi, oppure che l'effetto della tessera durerà per tutto il turno. Ci sono nuove tessere molto positive, ad esempio quella che fa avanzare il segnalino su un tracciato a scelta, o quella che permette di usare i contadini come jolly per un turno, ma anche molto negative, come quella che fa arretrare il proprio segnalino sul tracciato sviluppo fino alla stella precedente, quella che fa perdere una tessera tecnologia, o quella che accorcia il gioco di un turno. Con la variante nuove opere benefiche si sostituisce il tabellone opere benefiche originale con quello dell'espansione. In partite a 2-3 giocatori coprite con gli appositi segnalini gli spazi all'estrema destra di ogni area. In due giocatori inoltre le due aree inferiori non sono utilizzabili. Le regole non cambiano, ma il nuovo tabellone dà bonus molto diversi rispetto all'originale. Possono essere movimenti, merci, cittadini, luoghi, tessere tecnologia. Coprite gli spazi merce con le tessere indicate e posizionate tessere tecnologia accanto all'area navigazione. Con la variante intrigo si sostituisce il tabellone opere benefiche originale con quello intrigo dell'espansione. Anche in questo caso, in partite a 2-3 giocatori, coprite con gli appositi segnalini gli spazi all'estrema destra di ogni area. In due giocatori, le due aree inferiori non sono utilizzabili. Questo tabellone punta molto sull'interazione diretta e sul sabotaggio degli avversari. Invece di dare bonus, inviare un aiutante su questa plancia permette di effettuare azioni negative nei confronti degli avversari. I giocatori colpiti dalle azioni negative del giocatore attivo possono tentare di corromperlo con merci e o monete. Il giocatore attivo può accettare e non eseguire l'azione, oppure rifiutare e procedere con le sue intenzioni. Le azioni sono scambiare una merce di un avversario con una propria, rimuovere una stazione commerciale di un avversario dalla città in cui si trova il proprio mercante, riportare ad Orleano un mercante avversario e ottenere una moneta, far subire a tutti gli avversari una tortura e ottenere una moneta, ottenere due monete e far eliminare un aiutante dal sacchetto di un avversario, prendere una moneta e rimuovere un aiutante da uno spazio azione di un avversario, rubare una tessera tecnologia da una plancia avversaria e posizionarla sullo stesso spazio della propria plancia, ricevere due monete da ogni avversario, avanzare il proprio segnalino di un passo su un tracciato a scelta e indietreggiare di uno quello di un avversario che si trovava davanti a noi sullo stesso tracciato. Le tre nuove tessere luogo si possono aggiungere a quelle del gioco base. L'emporio dà a fine partita 4 punti vittoria per ogni tipologia di merce di cui abbiamo la maggioranza. La fattoria di pecore fa convertire un formaggio in una lana, oppure 4 monete, oppure 3 punti sviluppo. Con l'osteria ricevete due formaggi e due vini da posizionare sulla tessera luogo e da restituire quando si desidera ignorare le tessere evento. L'espansione Invasione contiene 22 carte edificio, 9 carte personaggio, una plancia per ogni scenario, una plancia ampliamento azioni, una casa borghese, degli indicatori neutri, un falegname, una tessera azione falegname, nuove tessere luogo, nuove tessere clessidra, una tessera sostitutiva per lo scriptorium, tessere edificio speciale. Si possono giocare 6 scenari, prosperità, invasione, il duello, il dignitario, version capitale, il commesso viaggiatore. Lo scenario prosperità si può giocare da 2 a 5 se si possiede l'espansione quinto giocatore. Sostituite il tabellone opere benefiche originale con la plancia prosperità. Non saranno necessarie le tessere evento, perché gli eventi sono fissi e designati sulla plancia. Un indicatore segnala quale turno è in corso. Ogni giocatore riceve una tessera azione falegname. Poi sostituisce lo scriptorium con la nuova tessera che dà un punto sviluppo o una nuova carta edificio. Le tessere merce sulla mappa vanno distribuite a faccia in giù. Si usano solo le tessere luogo elencate sul regolamento. Non si piazzano tessere cittadine sulla mappa né sul tracciato sviluppo, ma se ne piazzano tre sulla nuova plancia. Mescolate le nuove carte edificio e consegnatene due ad ogni giocatore, che ne terrà una e rimetterà l'altra in fondo al mazzo. Il falegname parte da Orlean insieme ai mercanti. Nella fase di pianificazione si possono piazzare fino a tre barcaioli e o commercianti sull'azione falegname. Per ogni barcaiolo si può muovere il falegname di un passo lungo il canale. Per ogni commerciante lo si muove di un passo lungo la strada. Tutti i giocatori muovono lo stesso falegname. Se si usa più di una tessera non è obbligatorio usare tutti i movimenti nello stesso turno. Quando il falegname arriva sulla città indicata dalla carta edificio che si ha in mano, la si mette a faccia in su di fronte a sé e si costruisce gratuitamente una stazione commerciale su una tessera merce che si trovi su una strada o canale che porti a quella città. Se non ci sono merci che soddisfano questi requisiti, non si può costruire la stazione. Si prendono immediatamente due nuove carte edificio, se ne sceglie una e si ripone l'altra in fondo al mazzo. Una volta costruito l'edificio, per ottenere i punti vittoria indicati bisogna presidiarlo, ossia mettere sopra la carta gli aiutanti, le merci e o le monete indicate. Merci e monete possono essere posizionati sulla carta in qualsiasi momento. Gli aiutanti vanno inviati con il municipio o la Santa Barbara. Una volta completati i requisiti, rimettete sul tabellone gli aiutanti usati e eliminate dal gioco merci e monete. Girate la carta a faccia in giù. A fine partita, dopo 16 turni, si aggiungono ai punti classici i punti per gli edifici presidiati. Nel conteggio delle stazioni commerciali da moltiplicare per i punti sviluppo, non contate gli edifici su tessere merci. Nello scenario per due e il duello, sostituite il tabellone opere benefiche con la plancia e il duello. Gli eventi sono fissati ed elencati sulla plancia. Un segnalino neutro sarà il segnaturno. Piazzate quattro cittadini sulle nuove opere benefiche. Si può far partire il proprio mercante da una città qualsiasi. Le tessere luogo da usare vengono scelte dai giocatori come indicato dal regolamento. In questa variante non si svolge il censimento. La nuova tessera casa borghese si posiziona al centro del tavolo. La casa borghese è attivabile da entrambi i giocatori con un aiutante qualsiasi, non del proprio colore, che torna poi nella riserva. Per attivare la casa borghese dovete spendere anche un cittadino per ottenere una merce a scelta, oppure un movimento, o 5 monete, o 3 punti sviluppo. Non c'è più il calcolo del punteggio classico. Lo scopo del gioco è risolvere i quattro obiettivi indicati dalla plancia prima dell'avversario. Gli obiettivi sono raggiungere il livello di sviluppo 3, costruire almeno 3 stazioni commerciali, tra cui una in una città senza canali, portare 3 tessere vino a Châtellerault, portare 3 tessere lana o broccato, di cui almeno un broccato, a Orlean. Non appena se ne risolve uno, si mette un proprio indicatore sulla casella gialla o verde, che corrispondono ai due giocatori. Il primo giocatore a risolvere i quattro obiettivi vince la partita. Se vengono risolti da entrambi nello stesso turno, vince chi ha il più alto valore di punti vittoria in merci, e in seconda battuta chi ha più monete. Lo scenario solitario Il Dignitario prevede una plancia speciale al posto del tabellone opere benefiche. La plancia scandisce i turni e i relativi eventi. Il giocatore parte con la tessera luogo diligenza che facilita i movimenti, ma parte senza monete. Lo scopo del gioco è raccogliere 7 o 8 tessere cittadino, in base alla difficoltà scelta, entro 16 turni. Si piazzano 6 cittadini anche su alcune città della mappa. Le restanti tessere cittadino non sono sufficienti per riempire tutte le sagome sul tabellone e sulle nuove opere benefiche, scegliete voi dove posizionarle. Si rimuovono alcune tessere luogo e poi se ne scelgono casualmente solo 5 di livello 1 e 5 di livello 2 da usare. Non servono tessere merci né tessere clessidra. Sono disponibili solo 4 aiutanti per tipo e 6 tessere tecnologia. In questa variante non si effettua il censimento. La partita è vinta non appena si ottiene il settimo o ottavo cittadino entro il sedicesimo turno. Lo scenario solitario Virzon Capitale prevede una plancia speciale al posto del tabellone opere benefiche. La plancia scandisce i turni e i relativi eventi. Il giocatore parte con la tessera luogo bancarella che permette di scambiare merci con monete e viceversa, ma parte senza monete. Si utilizzano solo 40 tessere merci da piazzare come indicato dal regolamento. Piazzate i cittadini sul tabellone e sulle nuove opere benefiche. Si usano solo 5 tessere luogo di livello 1 e 5 di livello 2 scelte casualmente. Sono disponibili solo 4 aiutanti per tipo e 4 tessere tecnologia. Lo scopo del gioco è realizzare i 5 obiettivi indicati sulla plancia entro 14 turni, nell'ordine che preferite. Gli obiettivi sono pagare 10 monete entro il turno 9 in un'unica soluzione. Costruire una stazione commerciale a Losh. Portare tessere merci per un valore di 12 punti a Vierzon. Pagare 25 monete in un'unica soluzione. Raggiungere almeno 28 punti vittoria con il calcolo classico stazioni più cittadini moltiplicato per livello di sviluppo. Non appena si risolvono tutti gli obiettivi la partita è vinta. Per aumentare la difficoltà si può aggiungere la regola di dover completare un obiettivo solo per ogni turno, oppure di dover per forza completarli in ordine. Lo scenario solitario il commesso viaggiatore prevede di mantenere il tabellone opere benefiche originale, ma aggiunge una plancia specifica che scandisce i turni e relativi eventi, stavolta di soli due tipi. Il giocatore parte con la tessera luogo bancarella che permette di scambiare merci con monete e viceversa e parte con 10 monete. Utilizzate il setup delle merci come per una partita a 4 giocatori. Si usano solo 3 artigiani, 3 commercianti, 3 barcaioli, 3 cavalieri, 3 studiosi, 4 monaci, 5 contadini, 8 tessere tecnologia e si usano solo le tessere luogo indicate nel regolamento. Lo scopo del gioco è realizzare i 5 obiettivi indicati sulla plancia entro 15 turni, nell'ordine che preferite. Gli obiettivi sono portare 3 lane a Bruges, portare una tessera per tipo a Chartres, portare 2 vini e 2 formaggi a Vendôme, portare 3 grani a Tour, portare un broccato a Argenton sur Creuse. Ogni obiettivo completato viene indicato con un segnalino neutro. Non appena si portano a compimento tutti e 5 la partita è vinta. Anche in questo caso, per aumentare la difficoltà si può aggiungere la regola di dover completare un obiettivo solo per ogni turno, o di dover per forza completarli in ordine. Infine, lo scenario cooperativo invasione si può giocare fino a 5 giocatori se si possiede l'espansione quinto giocatore. Sono necessarie le due planci città da assemblare. Non si usa il tabellone opere benefiche. I giocatori ricevono una plancia azioni ampliamento. Si utilizzano solo le tessere luogo elencate nel regolamento. Le nuove tessere clessidra si dividono in A, B, C e se ne scelgono solo alcune come indicato da regolamento. Per una partita più semplice si possono eliminare le tessere negative con il simbolo fulmine. Per una partita più difficile si possono lasciare le tessere fulmine ed eliminare le tessere positive sostegno e addestramento. Piazzate i cittadini come nel gioco base tranne quello sulla mappa. Aggiungete tre cittadini accanto alle merci grano, formaggio, vino che verranno prese dal giocatore che ottiene l'ultima merce di queste pile. Aggiungete un cittadino sull'ultima casella del tracciato contadini che si ottiene non appena tutti i tracciati avranno almeno un segnalino nell'ultimo spazio. E un cittadino alle blanc per il primo che costruirà una stazione commerciale in quella città. Coprite le città esterne della mappa con gli edifici speciali. Se giocate in due o tre piazzate delle stazioni commerciali su alcuni di questi, come indicato da regolamento. Ogni giocatore pesca un personaggio che indica l'obiettivo personale di ognuno. Tutti i giocatori giocano con uno scopo comune, completare tutti gli obiettivi comuni più l'obiettivo personale entro 16 o 18 turni, in base al numero di giocatori. Non si svolge il censimento. Gli obiettivi comuni sono inviare dei cavalieri sulle mura cittadine, collezionare cittadini, inviare monete al tesoro cittadino, inviare merci al magazzino, costruire stazioni commerciali su tutti gli edifici speciali. Per inviare monete e merci si usano le azioni della plancia ampliamento veicolo e gilda dei mestieri. Le altre azioni presenti sono l'ostello per inviare aiutanti agli altri giocatori o il palatinato per attivare un'azione che un altro giocatore ha riempito con i suoi aiutanti. Nella seconda metà della città sono presenti spazi per inviare aiutanti, merci e monete e guadagnare così tessere cittadino. La partita è vinta se sono stati risolti tutti gli obiettivi comuni e tutti gli obiettivi personali entro l'ultimo turno. Abbiamo chiesto all'autore di Orlean, Rainer Stockhausen, qualche consiglio su come affrontare il gioco. Ecco cosa ci ha detto. Spesso i giocatori tendono ad inviare aiutanti alle opere benefiche quando il gioco è quasi finito. Consiglio di usare il municipio da subito, perché non dà solo monete o altri bonus, ma aiuta a controllare il contenuto del sacchetto. Non è una cattiva idea avere tanti monaci nel sacchetto e inviare gli altri aiutanti alle opere benefiche. Se il prossimo evento è la peste e non volete perdere un aiutante, potete cercare di eseguire solo azioni con gli aiutanti del vostro colore in questo round, che non vengono persi anche se pescati dal sacchetto durante una peste, e non eseguire azioni con gli altri aiutanti. Queste ultime le potete preparare, ma eseguire nel round successivo. Ogni giocatore di Orléans ha le sue teste del luogo preferite. Le mie sono il giardino delle erbe nella categoria 1. È potente quasi come la scuola e permette di andare forte sul tracciato barcaioli, ottenendo monete e il cittadino in fondo al tracciato. E la farmacia nella categoria 2. Fa avanzare di tre passi sul tracciato sviluppo con un aiutante qualsiasi. Sì, vabbè, è un gestionale, ma provalo, vedrai che ti piace. È cooperativo. Per favore, fallo tu il setup di Orléans, prometto che lavo i piatti per un mese. Ma come ti sei stancato di giocare a Orléans? Sono uscite due megaespansioni! Regole poche, combinazioni infinite. Chi si è preso la sartoria? Credo che Orléans sia uno dei titoli a cui ho giocato di più quest'anno. Lo trovo ben fatto, stretto al punto giusto, divertente e con i disegni di Clemens Franz, per cui è un debole. La prima cosa che ci si chiede è se un bug building sia molto influenzato dall'Alea. Certamente sì, nella pesca degli aiutanti, ma credo che gli amanti dei calcoli non debbano preoccuparsi. La composizione del sacchetto infatti avviene man mano, reclutando gli aiutanti che ci servono di volta in volta, e quindi potremo avere un'idea di cosa statisticamente potrà uscire dal nostro sacchetto. Il sacchetto poi si può ripulire in qualsiasi momento, inviando agli aiutanti che non ci servono più, al tabellone delle opere benefiche. Inoltre gli spazi azione sulla plancia sono molteplici, e tutti richiedono combinazioni molto diverse di aiutanti, per cui anche se non è proprio nei nostri piani, qualcosa da attivare ci sarà più o meno sempre. Non sottovalutate la possibilità di cominciare a piazzare aiutanti di dispaziazione, anche se non riuscirete ad attivarli immediatamente. Lo spazio sarà quasi pronto per il turno successivo, e lascerete spazio al mercato per le successive pesche. In 18 turni bisogna pianificare attentamente le proprie mosse, capire quali aiutanti reclutare, e poi partire con i viaggi, la costruzione di stazioni commerciali e gli avanzamenti sul tracciato sviluppo. Il timing è fondamentale, perdere un turno per reclutare un aiutante in più può essere fatale, ma il bello del gioco è proprio capire cosa ci serve, quando e in che quantità. Dopo diverse partite ammetto che può subentrare una certa ripetitività, soprattutto perché si tende a focalizzarsi sulle stesse strategie, a comprare sempre le stesse tessere luogo, e così via. Ed è per questo che ci vengono in aiuto le espansioni. C'è da dire che costano tanto, ma sono davvero ricchissime. In Intrigo ad esempio, la variante Ordini dà finalmente un senso alla strategia delle merci, che nel gioco base è un po' fine a se stessa, è un raccogliere punti vittoria sulla strada, mentre qui viene finalmente motivata da un piccolo pick up and delivery. Il tabellone Intrigo è veramente cattivo, e porta l'interazione diretta in un titolo che era sostanzialmente un solitario di gruppo. Mentre la nuova plancia opere benefiche è molto divertente, da bonus molto diversi e molto interessanti, praticamente delle azioni in più. L'unico dubbio è che l'aggiunta di queste plance possa non essere adeguatamente sfruttata da tutti i gruppi di gioco. L'utilizzo delle opere benefiche, infatti, spesso avviene nella fase avanzata della partita, quando tutti vogliono cominciare a liberarsi degli aiutanti che non servono più. Nell'economia generale della partita, quindi, ma dipende da come giocate voi, l'aggiunta di questi due tabelloni potrebbe non cambiare molto rispetto al gioco originale. Invasione, invece, rende l'esperienza di Orléans a tutto tondo, e apre a prospettive inaspettate, aggiungendo varianti solitarie, di coppia e cooperative. Già avrete intuito che la mia predilezione va verso questa espansione. Con 6 nuovi scenari c'è tanto tanto materiale da esplorare. In generale anche qui vengono molto più valorizzate varie strategie che puntano sulle merci. Sono molto interessanti i solitari, un po' meno prosperità e il duello, ma la vera chicca è la variante cooperativa che è fantastica, difficilissima e inaspettata. Dopotutto un gestionale cooperativo non si vede tutti i giorni, e a mio parere vale proprio la pena provarlo. Le azioni aggiuntive che permettono di interagire con le planche degli altri giocatori, e lo schema di obiettivi che non c'entra più niente con il calcolo del punteggio originario, rinnovano e cambiano completamente la prospettiva di gioco. Fateci sapere se lo avete provato e quale espansione preferite. Se vi piacciono i miei video mettete un like e iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Alla prossima e buon gioco!